Andiamo invece a vedere Tesla, come giustamente sottolineavi, che sicuramente quando si parla di elettrificazione dell'auto non si può non pensare a Tesla, che è un titolo che è cresciuto con una progressione impressionante, si può parlare sicuramente, secondo me anche di bolla sul titolo Tesla, però nonostante questo sappiamo che i mercati si muovono più che per i fondamentali, per le aspettative. La prima cosa che muove i mercati è l'aspettativa e al momento il titolo Tesla, dopo aver ritracciato rispetto ai suoi massimi e che ha toccato il 27 gennaio del 2021, sembrerebbe voler ripartire e quindi segue il trend, è una delle prime regole che si devono dare ai trader e qua il trend sembrerebbe voler partire di nuovo verso l'alto. Sembrerebbe che il titolo Tesla sia in una fase di accumulazione, già vedete qualche settimana fa, un paio di settimane fa c'era stata il 24 di giugno la rottura di questa trend line che sottolinea dei massimi decrescenti rispetto al top che era stato toccato a gennaio. Da qualche settimana però abbiamo una serie di minimi crescenti che sono andati a formare questa figura un po' a triangolo. Da qua il 24 giugno il titolo è uscito dalla parte alta di questo triangolo, poi ha ritracciato, ha risentito di questa trend line in giallo e poi sta di nuovo dirigendosi verso l'alto. Quindi attenzione perché io sottolineerei questo livello di resistenza qua che passa sui 700 dollari perché una volta abbattuto secondo me dovrebbe rilanciare il titolo Tesla verso 780 può essere il target di breve di questo titolo. A conferma del fatto che l'impostazione tecnica sembrerebbe dare ragione alle previsioni di un'elettrificazione sempre più massiccia del mondo dell'auto e di cui anche i trader si rendono conto e quindi stanno cercando secondo me di tenere anche un titolo che è già cresciuto tanto come Tesla nel mirino.